Bene, andiamo avanti e in questo episodio finiremo l'app facendo gli ultimi ritocchi, appunto dobbiamo dare questo effetto ai bottoni, vedete, poi magari questo effetto qui se non vi piace potete anche modificarlo, però vediamo come funziona. Questo effetto che utilizza javascript non è un effetto creato con css, o meglio, si crea una classe che si modifica con css ma con javascript gliela si dà e gliela si toglie questa classe, adesso vedremo. E poi magari andiamo a modificare un pochino i colori utilizzando le custom properties di css. Ma prima di tutto devo correggere un errore che ho fatto nel video precedente, ovvero quello di scambiare l'acqua con la farina. Se infatti voi faceste questa ricetta vi verrebbe una zuppa di farina e non un pasto, c'è troppa acqua ovviamente, no? Quindi qui ho sbagliato, questo qua è flour, farina, questo è water, ok? E anche qui all'interno del testo, ok? Questo è flour e questo è water. Così, ok? Quindi farina e poi molto meno acqua, eccetera. Anche se, se volete farla, vi consiglio di mettere, di sciogliere, questo è un piccolo consiglio, di sciogliere il lievito all'interno dell'acqua, ok? In una bacinella. E poi a pioggia di aggiungere la farina piano piano, fino a tenere un impasto quasi già completato. Poi aggiungere il sale verso la fine, perché il sale, se lo si aggiunge troppo presto e viene a contatto in modo brusco con il lievito, lo, lo, insomma, lo uccide più che altro. E poi finire con la farina. Vabbè, ma questo poi, insomma, se vi appassionate di pizza, ci saranno tantissime altre cose da, di cui parlare, come ad esempio, che tipo di farina utilizzare. Quindi, come dicevo poco fa, noi per creare questo effetto, abbiamo bisogno di creare una classe, ok? Che fa diventare il bottone, vedete, più grande, adesso magari non si vede tanto, però poi rallenteremo questa animazione, più grande e di un colore diverso. Però questo avviene per un tot di millisecondi, che noi definiamo, e quindi, dicevo, bisogna aggiungere una classe e poi a un certo punto andare a toglierla. Ora, prima di tutto, quindi, andiamo a creare questa classe. Creiamola qui in fondo e la chiamo la classe pressed. Premuto. E una cosa che posso fare, quindi, è fare transform, ok? Scale. All'inizio mettiamo, facciamolo un po' più grande, ok? Facciamolo di due, del doppio. Se salvo, non succede niente, ok? Ovviamente. Perché la devo applicare questa classe. Se io, infatti, questa classe vado ad applicarla, ad esempio, all'icona più, ok? Quindi qui, all'interno delle classi, aggiungo anche la classe pressed. Se salvo, vedete, lui è così. È più grande e nero. Non gli ho ancora dato un altro colore, ok? Potrei farlo, color. Mi sembra di avergli dato 999, come grigio. Vedete, se salvo diventa anche così. Però ci resta in questo modo, ok? Io voglio invece partire, senza questa classe, andargli ad aggiungere. Cominciamo ad andare ad aggiungerla. Poi vediamo come toglierla. Quindi, come si aggiunge una classe? E questa cosa si farà tantissimo, eh? Il modo in cui si creano, ad esempio, il menu, il burger menu, quello che abbiamo visto in Bootstrap, che si trova spesso nelle app mobile. Quando clicchi, il menu si espande. Quelle sono delle classi, ok? Menu aperto, menu chiuso. Andiamo ad applicare una classe e poi andiamo a togliere quella classe. Quindi, andiamo all'interno del event listener del bottone che fa il più, ok? Questo qua, plus button. E andiamo a vedere, all'interno di questo bottone, facciamo il console log di this. Quindi this farà riferimento all'elemento che sto cliccando, ok? In questo caso, perché è questo, è plus button, ok? È come se io qua scrivessi plus button, solo che scrivo this, perché come abbiamo visto in passato, è sempre meglio usare this, se si lavora all'interno di una funzione, come in questo caso. Qui siamo all'interno di questa funzione. Quindi facciamo il console log di this class list, ok? Questa è una proprietà, scritto in questo modo, in camel case. Ora salviamo, qui apriamo la console e andiamo a fare più. Nel momento in cui faccio più, vedete, mi fa il console log di this class list ed è una lista che lui chiama DOM token list, che è una specie di array, però è una lista. Come abbiamo visto nel DOM ci sono queste liste che hanno tantissime delle proprietà degli array. Comunque è questa lista con elencate in ordine le classi, che sono appunto le classi di questo bottone, ovvero di questo span, sono material icons e plus icons, le vedete qua queste due, ok? Quindi io devo andare a lavorare su questa class list. Qui ci sono dei metodi. Un metodo per aggiungere una classe è il metodo add, ok? Quindi devo andare a fare, ora tolgo il console log e devo andare a fare this class list, quindi vado a lavorare su questa lista, metodo add, punto add, e poi vado a mettere tra parentesi e tra virgolette la classe che voglio aggiungere. In questo caso la mia classe è pressed, ok? Qui il punto non si mette, si indica solo il nome della classe. Così, in questo modo, quando io vado a cliccare, ok? Vedete, la classe viene messa, questo elemento, di fatto è diventato più grande, scalato di due, è stato applicato transform, ed è diventato questo grigio. Gli è stata applicata questa classe, la classe pressed, ok? Infatti, se io vado qui tra gli elementi, ora mettiamolo di lato, ok? Se io vado a vedere tra gli elementi dove c'è balls input il plus, questo qua, balls input lo span plus, ok? Vedete, la classe c'è. Ora faccio un refresh. E la classe, ops, scusate, e la classe non c'è, ok? Vedete, material icons è plus icon. Nel momento in cui schiaccio più, viene aggiunta la classe, ok? Questo this classlist add aggiunge la classe nel momento in cui faccio click, quindi quando eseguo questa funzione. Ora andiamo a vedere come toglierlo, questo pressed. Ci sono diversi modi con cui toglierlo, non ne abbiamo ancora visti nessuno, ok? Di questi modi, quindi faccio quello che ho utilizzato io. E quello che ho utilizzato è quello di andare ad aggiungere un altro event listener, perché di event listener ce n'è di diversi tipi. Quello che abbiamo usato noi finora è quello che sente per il click, ma ce n'è tantissimi, eh? Vi ricordo. Uno di questi eventi che noi possiamo ascoltare è quello di fine transizione. Cosa si intende per fine transizione? Qui noi non l'abbiamo ancora fatto, però ha questo plus icon, qui, possiamo aggiungere una transizione, ok? Infatti è anche meglio che ci sia una transizione, perché noi non vogliamo che questo bottone diventi improvvisamente grande e grigio, e poi torni ancora piccolo. Vogliamo che faccia una transizione. Ora questa transizione la mettiamo abbastanza lenta, giusto perché così si veda meglio. Quindi transition, all, e mettiamola a un secondo, ok? Vediamo, ora salvo, vedete? Ora l'ha fatta subito, però se vado a cliccare mi applica la trasformazione, questo transform scale 2, e anche me lo cambia di colore, però ci mette un secondo per farlo, ok? Questo, questa transizione è un evento, e io posso andare a ascoltare la fine della transizione. Quindi se io voglio che questo bottone si ingrandisca, e poi ritorni piccolo, e ritorni ancora nero, devo, quando la transizione è finita, andare a togliergli la classe pressed, a quell'elemento. E questo lo faccio in questo modo, quindi sotto l'event listener del click, ci vado a mettere, ancora, plus button, plus btn, quindi prendo l'elemento plus btn, gli applico un event listener, ok? Come abbiamo fatto col click, invece che, quindi qui tra virgolette, invece che scrivere click, ci scrivo transition end, e questo è un metodo, ok? Non è una variabile che ho creato io. E poi, dopo, devo andare a mettere la funzione, che verrà eseguita, però la funzione, siccome poi sarà uguale per entrambi, ancora una volta, me la creo qui sopra. Poi la andrò ad aggiungere adesso, eh? Questo qui, questo event listener, non è ancora completo. Quindi, la funzione che voglio che venga applicata è function, la chiamo remove transition, e questo è un nome che invece gli ho dato io, così, e ancora, faccio this, class list, punto, prima ho fatto remove, scusate, prima ho fatto add, adesso faccio remove, remove cosa? La classe pressed, così, ok? Quindi qui, in questo event listener, dopo aver detto, ascolta per la fine della transizione, quando la transizione è finita, applica, chiama questa funzione, remove transition, così, ok? E qui non devo mettere aperta e chiusa parentesi, perché quello farebbe eseguire subito la funzione, invece che, invece voglio che questa funzione sia eseguita solo quando la transizione finisce. E questo è fatto. Ora salviamo, ok? Andiamo a vedere se funziona. se io clicco sul più, vedete? Ora andiamo a vedere cosa succede qui al div, allo span, ok? Guardate qui, dove c'è scritto material icons, lo faccio un po' più grande, ok? Guardate qui, questo elemento, se io clicco più, vedete, è stato aggiunto pressed e poi è stato tolto. Pressed è tolto, ok? Quindi in questo modo siamo andati a togliere, a mettere, a togliere una classe. Ora io l'ho messa e l'ho tolta, perché di norma la classe non ci deve essere, perché il bottone deve essere normale, ok? Però in moltissimi casi, tipo nel menu, nel burger menu, lì non vado a fare add e remove, ma lì vado a fare toggle. Toggle in inglese vuol dire tipo come si può dire toggle? Toggle è se c'è una levetta, ad esempio, è metterla in una posizione di on e in una posizione di off, ok? E quindi ammettiamo in un menu io ho la classe chiuso, che lo fa visualizzare in un certo modo, e la classe aperto. E lì vado semplicemente a spegnere ed accendere le due diverse classi, perché ce le ho sempre, ma sono spente e accese. In questo caso, invece, glielo ho messa e glielo ho tolta. Ok, quindi andiamo a fare la stessa cosa quindi al bottone del meno, anche se questa è troppo lenta, cambiamola subito. Qui lo tolgo per avere più spazio. Vedete? È troppo lenta. Per velocizzarla, quindi, vado qui nella transition e invece che un secondo la metto ad esempio 0.2 secondi, vediamo, salvo, ed è più veloce. È anche molto grande, ad esempio, invece che farla a 2 la faccio a 1.5, ok, così. Dopo vedremo come toglierlo questo. Ok, quindi, andiamo a fare la stessa cosa nell'altro event, quindi qui sotto aggiungo questa riga, la prendo da da questo, insomma, e la copio e la incollo qui sotto, tanto è la stessa cosa e qui il this mi ha aiutato perché se no avrei dovuto cambiare minus, vedete, plus button in minus button e questa resta uguale quindi semplicemente così. Infatti se salvo ah, ovviamente non me la toglie, il più me lo toglie, il meno non me lo toglie perché devo anche creare l'event listener che toglie la classe. Questo lo vado a mettere qui sotto e invece che plus button questo è minus button. Minus btn salvo e ora dovrebbe funzionare anche il meno. Ho detto qua non me lo fa, ecco, ho fatto anche un altro errore, non ho messo la transizione nell'icona meno, quindi lui non avendo una transizione lì non ha un evento da ascoltare e quindi non mi toglieva la classe. Se invece vado a mettere la transizione anche qua, ora dovrebbe funzionare, ok, infatti funziona. Bene, ora voi vedete che quando clicco su questi bottoni ogni tanto, ecco, me l'ha fatto, mi crea questa casellina blu, ok? Qui invece non me la fa e tra l'altro mi diventa anche la manina, mi fa la manina, mi fa vedere che posso cliccare su questo più e meno. Allora, vediamo di fare entrambe queste cose, di risolvere entrambi questi problemi. Prima di tutto la manina, la manina la metto andando sui, sui vari bottoni, quindi plus icon, cursor, cursore, pointer, ok? se salvo vedete quando vado sul più qui sul meno non me lo fa ancora perché non glielo ho messa, qui mi diventa una manina. Quindi questa riga la metto anche sotto il meno, sotto minus icon e poi per andare a togliere questo box devo mettere tutto un blocco di codici che io ho copiato da una risposta che ho trovato su stack overflow e che non è semplicissimo insomma. Adesso ve la copio poi ve la spiego. Quindi ho aggiunto tutta questa pappardella qui perché appunto questi webkit mods sono delle istruzioni per i diversi motori javascript all'interno di diversi browser firefox safari chrome eccetera e semplicemente vado a dirgli a tutti questi browser in modo che lo faccia allo stesso modo in tutti di non fare questa casellina blu ok? Questa casellina blu ha uno scopo serve per le persone ipovedenti e però in questo caso appunto siccome questa app è molto semplice e magari non la metteremo mai neanche online poi magari più avanti vedremo come farlo senza andare a togliere questa funzionalità ma in questo caso la tolgo quindi questo me lo copio tutto anche sotto all'icona più e vedete che ora non mi fa più quella casellina blu ok? vi avevo fatto vedere in passato come aprire il browser sul vostro telefono per vedere come si vede sul telefono se non lo sapete io vi posso far vedere ancora su mac e su mac dovete andare nelle preferenze network e qui voi potete vedere il vostro IP ok? in questo caso il mio è questo qua l'IP e dovete scrivere sul vostro browser e poi quella cosa quella pagina se sapete come farlo sul vostro telefono potete salvarla come app sul telefono insomma per non dover scrivere ogni volta l'indirizzo di questo local host quindi scrivete l'IP qui poi due punti 5500 ok? in questo modo lo aprite sul telefono il telefono deve essere connesso alla stessa rete wifi su cui state facendo il live server ovviamente ok? quindi abbiamo fatto questa ora andiamo a vedere come fare queste ultime piccole modifiche di stile vedete allora prima di tutto questo balls è più grande del resto ok? quindi questo l'ho ottenuto andando su balls input e modificando il font size font size e io ho messo clamp ancora ok in modo da rendere l'app più responsive 3 rem virgola 13 view width e 5 rem così vedete è diventata più grande però se io la ridimensiono la scritta a un certo punto diventa più piccola vedete se no il testo diventa più piccolo e lei rimane grossa ok? quindi ora per andare a cambiare i vari colori e poi io qui potrei avere fatto una cosa oscena secondo il gusto di molti quindi ecco ho fatto risaltare il punto di domanda quindi ho dato il rosso e lo stesso ho fatto con tutti i valori ok? e poi questa frase l'ho fatta diventare bianca come ho fatto? si possono semplicemente andare a cambiare i colori nelle varie classi oppure io ho voluto utilizzare quelli che si chiamano CSS custom properties e che mi pare abbiamo già visto si creano in questo modo quindi vado a prendere root l'elemento root che è proprio le custom properties si danno sempre a root e come il livello più basso la cartella in una serie di cartelle la cartella di root è quella che contiene tutte le altre cartelle e qui dentro root vado a crearmi i colori che voglio utilizzare ok? ma queste proprietà non devono essere per forza colori possono essere qualsiasi cosa possono essere insomma qualsiasi valore vogliamo registrare in una variabile e ad esempio mi creo primary color primary txt color e questo è un nome che do io e poi do il colore ok? ad esempio 0 0 0 in questo modo quindi primary color è il nero 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 poi posso andare a creare ad esempio secondary text color così e questa qua questi due trattini vanno messi e poi il nome della variabile e il questo lo do invece bianco pieno quindi cancelletto fff e poi io ho creato un'altra variabile chiamata ingredient color che è il colore che è il colore bianco scusate il colore rosso che do ai vari ingredienti ai vari valori ingredient color e questo l'ho fatto d61900 ok? che è questo rosso molto vivo qui non ho messo la chiusura per qualche motivo di root ok? in questo modo ho creato queste variabili che potrò andare a utilizzare dove voglio e la comodità di queste variabili è che poi se io voglio cambiare un colore non devo andare su ogni elemento a cui ho applicato quel colore a cambiarlo ma semplicemente lo cambio qui nella variabile quindi come faccio a dare questo colore ad esempio il nero è già di default nero quindi io l'ho creato ma in realtà non c'era bisogno di crearlo perché tutto è già nero ad esempio andiamo a fare il punto di domanda rosso ok? il punto di domanda io non l'ho ancora isolato per farlo devo andare a metterlo all'interno di uno span quindi creo uno span e ci metto dentro il punto di domanda così qui questo spazio lo posso togliere e questo span gli do classe ad esempio qmark question mark così quindi dopo averle dato quella classe vado nello stile magari alla fine e quella classe la modifico e quindi come color scrivo var ok? così e vedete lui me li fa scegliere perché sa che io ho creato queste variabili quindi quale voglio darle il rosso ingredient color se salvo non diventa rosso ecco adesso l'ho diventato bisogna fare un refresh ok quindi quello è fatto ora vado a modificare la scritta e per fare questo dovrò probabilmente creare un'altra classe perché se no vado a cambiare tutto ok? tutte queste scritte quindi vedete output text ho come classe però ce l'ho per tutti questi paragrafi semplicemente vado a cambiare il primo paragrafo questo p gli vado a dare output text 1 aggiungo un 1 e qui nello stile devo andare a modificarlo posso farlo qui quindi output output text 1 color var e gli do il secondary text color ancora bisognerà fare un refresh no ho sbagliato ecco l'ho scritto ancora in camel case mentre mi confondo sempre ok così quindi qua me lo fa tutto bianco e poi voglio fare il 6 rosso ok quindi il 6 è bols number quindi bols number ce l'ho non ce l'ho bols number non l'ho ancora utilizzato quindi vado qui sotto punto bols number color e gli do ingredient color così il 6 anche il rosso e la stessa cosa poi faccio con tutti questi che sono tutti questi quindi il 504 l'870 eccetera che sono degli span tutti quanti all'interno della classe output text quindi vado nella classe output text e tutti gli span all'interno di quella classe e gli do come colore lo stesso che ho dato qua quindi colore degli ingredienti ok se salvo non me li colora perché andiamo a vedere ah anche qui ho fatto quell'errore in cui uso il camel case per le classi invece è meglio utilizzare il trattino in questo modo quindi output text ok se infatti vado qua ora dovrebbe funzionare infatti vedete mi ha fatto tutti questi rossi così in questo modo questa dovrebbe essere uguale a quell'altra ok e vedete che appunto ora se voi volete semplicemente ammettiamo invece di farli rossi questi volete farli verdi ok fate hover sul colore e qui potete potete modificarlo ad esempio un verde tipo questo ok se salvo diventano tutti verdi ok senza stare a modificarli uno per uno ok quindi abbiamo fatto questa piccola app insomma potete giocare un pochino con questi effetti colori potete cambiare l'effetto di quando si clicca oppure potete usare queste nozioni imparate durante questi esercizi per fare qualcosa di vostro ok questi sono come sono come dei mattoncini lego voi potete prenderli riarrangiarli in un altro modo e creare un'altra app che vi serve per qualcosa di personale ok ci vediamo nel prossimo video ciao